Oh, adesso noi facciamo una piccola pausa per cambiare l'acqua alle olive, ma... Scusa, Daniele, scusa! Sì? Chi è? Scusa! Sì! Avrei sete, è possibile avere qualcosa da bere per il pubblico? Certo! Salve! Sono il tipo che si è appena beccato il gavettone. In realtà sono un attore. Ma se a voi capita di venire umiliati in un programma TV, seguite questi consigli. Uno, mettetevi a ridere. Per fare buon viso a cattivo gioco. Due, aspettate il presentatore dopo lo show. E bastonatelo, fino a farlo diventare una polpa senza vita. Merda! Dre, seppellitelo. E questo era un consiglio per il saggio. Bene, restate con noi. Fra poco ci raggiungono a Fez e Kartika. È un grande show questa sera. Aspetta se lo paragoniamo a Sanremo. A tra poco. Grazie. 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 Grazie.